Ci trasferiamo a Milano dove è avvenuto il primo incontro di Monsignor Nunzio Galantino con la famiglia di Avvenire. Oggi il segretario generale della conferenza episcopale italiana ha celebrato nella sede milanese del quotidiano dei cattolici la messa natalizia. Stiamo vedendo le immagini. Monsignor Galantino ha invitato a saper abitare la storia, a essere capaci di leggere sì il frammento, ma in relazione al tutto, quindi contestualizzandolo. Servono, ha aggiunto, fedetta al passato, attenzione, vigile al presente, attesa operosa verso il futuro. Solo allora, concluso Monsignor Galantino, saremo uomini e donne capaci di dare un contributo al futuro del Paese.